Il Cantiere della Sangritana è il nuovo libro edito da Carabba, scritto da Caterina Serafini. Che cosa racconta questo libro? Il titolo ricalca anche il contenuto di quest'opera. Riguarda appunto la costruzione della ferrovia adriatico-sangritana fin dalle sue origini. Stiamo parlando del periodo preunitario nel 1853, ci fu il primo progetto del barone Panfilo dei Riseis, il quale appunto aveva già dall'epoca previsto il collegamento tra l'adriatico e il Tirreno attraverso questa direttrice trasversale che sarebbe diventata appunto la ferrovia sangritana. Perché noi abbiamo i resoconti dei lavori di cantiere che sono conservati in archivio e che appunto ci testimoniano di questo lungo e importante lavoro che coinvolse centinaia di operai. La linea partiva da Castel di Sangro fino ad Archi per diramarsi verso Castelfrentano-Lanciano-San Vito. Una seconda diramazione da Ortona verso Guardia Grele per ricongiungersi di nuovo a Castelfrentano in località Crocetta. Poi un'ultima diramazione verrà costruita nel 1929, la tratta Archi-Atessa, che vedrà la luce soltanto però con l'elettrificazione. Noi stiamo parlando del primo periodo della costruzione a scartamento ridotto e trazione a vapore.